Ciao a tutti, eccomi qua, oggi inizia ufficialmente la mia avventura verso Amamet in Tunisia dove andrò a fare come vi avevo detto due tornei TF grad 2 e un 15.000, ho appena finito di fare il check-in e fra poco andremo all'imbatto. Saluta, stiamo per imbarcare, vuoi dire qualcosa? Dai Ale! Sto salendo, ci rivediamo a tutti! All'aereo c'era un sacco di vento, infatti tuttora c'è tantissimo vento, ora proviamo ad andare a provare i campi e vedremo. Eccomi qua, siamo arrivati all'hotel, siamo arrivati ad Amamet, atterrati, è venuto a prenderci un taxi che ci ha portato qua all'hotel, ora stiamo andando ai campi ad allenarci. Eccomi qua al resort ufficiale del torneo, siamo qua in riva mare, bellissimo, la struttura è enorme, ci sono campi da calcio, pitch tennis, pitch volley, golf, c'è di tutto, è enorme, piscine, palestre, è bellissimo, c'è tanto vento però si sta bene. Eccomi qua, ritornata all'hotel, oggi mi sono allenata con la mia compagna di doppio, bulgara, che vive in America, Marsella è in Spagna. Nonostante il vento incredibile, fortissimo, siamo riuscite a fare comunque un buon allenamento, poi sono andata a firmare per il singolare, ora stiamo aspettando gli orari di gioco, domani inizierò il torneo e questo è. Eccomi qua, martedì ho giocato la mia prima partita di singolare, sono stata sorteggiata contro una tra le più forti del mondo della mia età, è l'impellicano, maltese, che però si allena in Spagna. Non è stato un grandissimo match a causa anche del forte vento che c'era, nonostante quello, però ci sono stati dei belli scambi da parte di entrambe. Lei purtroppo è riuscita a giocare un po' meglio di me e quindi è riuscita a portarla a casa con il punteggio di 6-3-6-2. Poi abbiamo giocato, il giorno dopo, ho giocato il doppio, la prima partita di doppio con la mia compagna, che dopo vi presenterò. E' andata bene, nonostante la prima partita insieme siamo riuscite a giocare bene, c'è stato subito un buon feeling. Abbiamo giocato contro due forti russe che giocavano bene e siamo riuscite a vincere con il punteggio di 6-2-7-5. Infatti ora sto andando al circolo, seguitemi che ve la presenterò. Ciao a me, mentre ero in Tunisia, sono qua con la mia compagna di doppio, Daniela Dimitrova, e una mia amica e compagna di gioco, Marta Costiccia. Ciao, sono Daniela Dimitrova. Sono da America, ma gioco per la Bulgaria, perché mio padre è bulgariano. e quando vivo in Spagna, ho trainato in Force Slam Academy, e sto giocando le doppio con questa cosa, e Marta è anche giocato. E, buongiorno, e Marta, che mi piace. Ciao, sono Marta Costiccia e sono da Spagna, ma i miei parents sono da Croazia. Io vivo ora in Barcelona, e la siamo in Penerife, e, buongiorno, sempre qui. E, buongiorno. Cool, bro! Seguitemi su Padova Sport, e vi terrò aggiornati sul mio torneo qua in Tunisia. Ciao!